Coach che dire di questa partita pazzesca e incredibile per essere la prima di campionato chiusa senza i due opposti titolari in campo con Davi Schiba che prende l'MVP con voi che prendete 20 punti insomma forse c'è tanto 20 muri scusate c'è tanto dentro questa partita sì abbiamo giocato con il secondo palettatore anche se non lo diciamo forse è meglio dirlo l'anno scorso cammino a tre sulla sua battuta avete fatto tutti i break lo so lo so ma infatti è un ragazzo molto bravo per cui il merito va dato a Nick che ha fatto una partita straordinaria c'è da dire che il primo set abbiamo commesso quattro imprecisioni molto gravi non dico che tutte e quattro vadano trasformate ma almeno tre potevano essere trasformate staremmo parlando di un'altra partita secondo me la chiave di volta è proprio il primo set poi dopo dopo quando sei in vantaggio 2 a 1 e arrivi ai vantaggi contro queste squadre che sono delle grandissime squadre la singola giocata fa la differenza ecco per cui è andato in battuta Davi Schiba avete visto quello che ha fatto ma poi dopo anche nel tie break bene bene alla fine dell'ultima palla c'è una invasione di seconda linea che non è stata chiamata Osmani però saremmo stati 14-13 quindi c'era un'altra battuta da fare sono un po' così nel senso che hai giocato una buona partita non una grande partita una buona partita sei stato attento sei stato in gara fino in fondo e questa è la cosa che a noi deve rimanere ci sono tante cose sulle quali andremo a lavorare cosa racconta? siamo alla prima di campionato questa partita di Modena e di Milano racconta che sono due squadre che giocano per guadagnarsi un posto nei playoff il più avanti possibile racconta che è un campionato meraviglioso racconta che è un campionato che tutti ci invidiano e ci guardano siamo sotto la lente di ingrandimento sempre credo che la prima partita sia la testimonianza che quello che ho appena detto è assolutamente vero gare da giocare dal primo all'ultimo punto grazie a tutti